Sì, meno, fino a qui. Guarda che c'è questo. Ancora la piaia. Sì, sì, sì. Sì… Ecco Sì, il è fuori… Sì… Quindi da prende così, vediamo qualcosa, perché sc는데 non si c'è sì. Jetzt vediamo prima di metà, non si tratta giù Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti